1, 2, 3, jump! Io non lo posso prendere, Dio merda! C'è fortunato che ho aperto tutte le poste, perché altrimenti rimanevi giù, non potessi venire sulle poste, perché non c'hai i soldi. Eh, infatti, però ero scampato al pericolo Toru. Oh, sì, Marti, vuoi fare un due salto? Cosa? Faccio un due salto, faccio un due salto e adesso torniamo indietro. Vai, fallo! Poi ci provi a Cesare, guardi! È morto, è morto! No, non è morto, però è tornato indietro! No! C*****o! Perché ti buttati? Ah, che c*****o! Ragazzi, non mi fanno! per avermi scriviate oi salite per farlo il primo per il fatto che il popolo è stato sta zitto sta zitto lo dice sta zitto con i miei no no, tu eri visto tutti contatti aggiungo la donna no no, mi sto bene ah di lauri fai tu, no, non posso farlo vengono sceglierò ok capo lo scendere xd io mi butto secondo me sono così subito il p non si muove il mondo per il video è il video è il video è lato in culo al mondo e questo è vero arriva arriva a toccare gesù la vera salta adesso passano forse dovrebbe essere un membro del gruppo più prestanti a trasportare questo macchina ahahah cazzo per poco poi ci vado nooo cazzo nooo dai pensavo che mi buttava là sopra che coglione no no non me ne sono accorto porca puttana no no dai ma dov'è CSI? no ma CSI è morto anche lui affanculo troia è la mia no no madonna per poco non ci sono andato sopra dai si deve morire ma se stronzate non è possibile sai se sei gay che c'è non è coppare ok ok ha giurato che lui cambierò dai dove è il pacchacciacci accadri no ok 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 rinanzo ronanima ok no se c'è fai tento e la vado e dai e caduto c'è sei oh cartone ti domicili come finito io quasi 34 34 come c'è a tendermi vabbè 34 guardiamo che fai per te amo che stavo a domani ne sono merda per me io ho come due pacifiche io lo faccio e faccio un po' a terra e io ho un po' di risposta ma quanto cazzo usi mai per me andrea io ero che vuoi dobbiamo fare la spera anima andò merda mi dai il tempo Lo stanno animando, merda Il lavoratore acquistato, oddio Torque si salva per un pelo Una ciam***a, questa cosa scende Torque che cazzo stai a fare la nonno No, sono un coglione Faccio da solo Vai, vai, vai di animare a Kekko Dove cazzo sta? Sto scendendo giù, Dio Sei morto, vai Sai su quella scensore, coglione, quella scende ora Torque Dieta di te La scensore di raggiunga Grande città Grande città La scensore di attore anche la scensore morito Sì, grande, non ho più munizioni Guarda questa caccia, il cazzo nel culo Il cazzo in culo, che è una pelva Io non ho più munizioni, lo dico Ora Questa sale, abbiamo Dove c'è? Ciao nonna Buerizzo Oh buddino Ah, basta arriva e moriva torcano Ah no, è la cazzo Il cazzo in culo Il ricufatore non può essere potenziato se non lo sbaglio, eh? No Ho perte se sai, oh mio Dio, ho paura da solo Mamma mia, mi stanno cerchiando Help Help this, dico Peppe Peppe, è rosso Sweet Peppe Ehi, Peppe Wow, wow, è stato sempre esagerato Ehi, eh, 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 eh Ehi, eh, 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 io ho andato a te che lo devi dire ahahah eccoci non è un po' di soltanto per gli anni morte ma cd cosa è il palermo è un bel animale numero di pericolari perchè ha abbandonato lo stavo anche rianimando sembrano quei miei fai tutto il tuo lavoro per cui avevi le anime no perchè dovevi toglia di buttare l'occasione io tanto non voglio se lo perdi di culo ha giurato da lui manderà oltre che cosa è il lavoro il valore ma parola c'è solo tu no e te riemio rosa rosa ce l'hai il lavoro appamelo atto subito attivino un punto di vista per la direttore per trattare un'attività l'amera ricorda se no aspetta un buco l'acqua porca puttana che quando ma il dubbio di un'altra parte di un'altra parte è troppo figo il corpo aspetto alle risate voglio farlo meglio non è di vedere ma non è un'altra tipo di metto che ho detto meglio ebbe andare di labbra no, qui abbiamo fatto hai giurato che lo cambierà vabbè che ti mette bene, vabbè ma adesso sai che tu mettiti qua dove sei no 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 fa un culo, vedo me dai eh non lo sai noo 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 dai non era impossibile ecco qualcosa permetta davvero non ha saltato ahahah chi prendere qua lui lo avete sfiorato dai ma va, come fa il culo grazie qua ti arriva volentato lui se non va e non ho saltato, non ho fatto niente aspetta, è un po' più difficilotto qua vai ti vado il culo, c'è il culo ok, ok, no ah, giuro, vai accendo ahahahah ahahahah che coglione che toro ahahah ahahah ragazzi mi sa che finita qui no aspetta, io vorrei prendere la cassa allora vai che coglione 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 vai vai che coglione vai vai la cassa prego il mio bello e la banda non è vero cosa si faccia la ricerca e la cassa coglione vai spiegato se c'è un sacco il coglione corri vai 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 che coai non vè dubbio che ora non c'è nessuno ma la cassa non c'è nessuno ragazzi mi piace torni indietro torni indietro torni indietro e ci ritardi o cristo voglio muore guarda buttate alla sinistra alla sinistra vai vai ok bravo ma non di qua ma vero di aspettare sa merda ma devo aspettare la merda che scende porca puttana oh vedi di baggarte anche tu nella la cosa che si dice un po' più bella muro no di baggare muro da andrea riuscire 10 attivo poi come si fa se non esce più cosa succede entro è più mai nel muro e si più vuoi e muori poi no no per lui per me torni corri da sinistrare per me guardate guardate il coglione ragazzi si butta giù porco dio si si butta giù si butta giù ma almeno non mi hanno cito loro si vabbè almeno non mi hanno cito loro almeno non mi hanno cito loro bene pensa così beh tu hai detto che non volevi andare alla cassa dei due coglioni se tu che ti vengono basta ahahahah